L'unità di crisi della Regione Campania conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la zona arancione. Nell'ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca sono previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale, con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali e vi comprese quelli di cui è l'articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020, zona arancione, nonché regionali, ordinanza numero 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Per tutto l'arco della giornata divieto di consumo di cibi e bibite anche non alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico e vi comprese le ville e i parchi comunali. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea, gli avventuri all'ingresso dei propri locali ed inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore ai 37,5 gradi centigradi. Raccomandazione ai comuni e alle altre autorità competenti da parte della regione Campania di intensificare la vigilanza in controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della Movida. Raccomandazione ai comuni ai fini dell'adozione laddove necessario di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.